Un progetto che sostiene aiuti più fragili, giovani e gli anziani per far sì che nessuno rimanga indietro dal punto di vista sociale. Con queste parole l'assessore regionale Giorgia Latini ha presentato l'iniziativa denominata Facciamo Rete che coinvolge 58 associazioni per un totale di 800 sedi e circoli locali. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione della comunità un'ampia gamma di servizi di assistenza dalla consegna dei medicinali al supporto psicologico fino ai consigli utili per la gestione del caro bollette. Il tutto al telefono, in via telematico e in presenza Covid permettendo, contattando il numero verde 800 366 811 ogni giorno dalle 9 alle ore 18 esclusi i festivi, il personale di Ampasmar che appositamente formato sarà a disposizione degli utenti per fornire una prima risposta, indirizzandoli in base alle esigenze verso le diverse organizzazioni del territorio che hanno aderito. L'intervento, come ha spiegato il presidente di Ampasmar che Andrea Sbaffo, si divide in tre macro aree. La prima riguarda il contrasto alla povertà per dare risposte a chiesenza dimora e altre forme di sostegno a situazioni di indigenza, comprende azioni volte a sostegno psicologico, a persone in condizioni di esclusione sociale e orientamento e reinserimento al lavoro. La seconda macro area prevede invece il contrasto all'emergenza epidemiologica con attività di sostegno a domicilio per persone in difficoltà o non autonome. Rientrano la consegna a domicilio di spesa, farmaci e beni di prima necessità, contrasto alla povertà educativa e a problematiche di apprendimento scolastico, ma anche azioni formative o consulenze per aiutare chi non ha dimistichezza con le nuove tecnologie e i servizi digitali. La terza, infine, mira a sostenere le associazioni, anche quelle più piccole e meno strutturate, nelle aree interne, ad esempio sperimentando percorsi di formazione nell'ambito del welfare. È naturale che la pandemia ha colpito anche il mondo del volontariato, ma mettendoci insieme riusciamo a dare un servizio di prossimità a tutti i cittadini marchigiani. In questa maniera si riesce a razionalizzare le nostre forze e a dare tutti i tipi di servizi ai cittadini marchigiani che sono colpiti da questa pandemia che viene dopo un periodo della post-sisma e che attualmente, ad esempio, si va ad acuire con il caro bollette, perché comunque dati nazionali ci prevedono un aumento della nostra vita per circa 1.500 euro a famiglia, a livello familiare. Insomma, dunque, ecco, è importante che queste associazioni riescono a sostenere il cittadino. La Regione sostiene con oltre 800.000 euro questo progetto che si concluderà nell'agosto 2022 e che vede le Marche come Regione capofila. Siamo un vero punto di riferimento, ha dichiarato Latini in conferenza stampa, perché il terzo settore nella nostra Regione, ha detto, è un fiore all'occhiello e lavorare in sinergia ci permette di intervenire laddove le istituzioni non riuscirebbero. Questa è sussidiarietà, uno strumento che ci aiuta a rispondere alle necessità e ai bisogni delle persone in maniera efficace. È un progetto di cui la Regione Marche ne va veramente orgogliosa, perché già nel titolo c'è la visione politica che la Regione comunque si è prefissata, cioè dell'importanza del fare rete tra associazioni del territorio. In questo momento della pandemia è ovvio che questa esigenza si è fatta ancora più forte, e quindi questo progetto va a dare delle risposte concrete per aiutare la popolazione marchigiana più fragile.